Hop! 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 La prego, non corra così. Hop! Correte, correte. Non ce la faccio. Non ce la faccio a starvi dietro. Sono stanco. Piccoli uccellini. Bambini, bambini. Anastasia, dove vai? Sono così... così leggera. E tu che continui a portarmi. Ho un brutto presentimento. Non preoccupatevi. Pregate. Pregherò anch'io per voi. Li senti? Li senti gli spari? State tranquilla. Dio è con voi. Ho una strana sensazione. Come di qualcuno che ci segue. State tranquilla, Alexandra. State tranquilla. Se solo Alexei potesse correre così... State tranquilla. I dottori non servono a nulla. Non c'è nessuna speranza. La colpa è mia. Bambine! Bambine, comportatevi bene. Scusate. Scusate. Perdonate. Vieni qui, Anastasia. Dove sei stata? Ti ho cercato tutta la mattina. Allora? Stavo giocando. Andiamo. Guarda. Sedete, sedete. Dov'è Alex? Qualcuno che sta arrivando. Spostate avanti a Isidro. Aiutatemi. Grazie, mamma. Trapparci. Oggi verrò in te con voi. Solo, solo. Come ti senti? Sto bene, mamma. Ora vai a sedere e chiedi scusa di essere arrivata in ritardo. Ordi. Questi sono i miei preferiti. Anche i miei. Con il vostro permesso dovrei dirvi una cosa. Sentiamo, che c'è? Vi prego di perdonare il mio ritardo. Mi perdonate? Voi che cosa dite? Dobbiamo perdonare? Anastasia, non lo farà più. Mmm, che buono. Ecco, hai visto? Non ti è successo niente. Potete andare. Via, 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 via. Via, via, via. Volate via, angioletti. L'uccellini di Dio, volate, volate. Volate, volate. Via, via. Via, via. Via, via, via. Via, via, via. Via, via. Via, via, via. Via, 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 via. Grazie.